un incontro con la professionista una vittoria al peso di chilograffi 90 e 500 Marco 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 peso di chilogrammi 89,5 cento. Sei riprese dall'arbitro del signor D'Arzuo. Prima dell'incontro di questa serata vorrei invitarmi in presa in Germania conquistando il titolo mondiale GDC, anche se è residente in Ungheria, è sempre un italiano Giuseppe Raudi. Buongiorno di questa serata è la prima ripresa. 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 Grazie a tutti. 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 Buoni secondi. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti.